La società di oggi è composta da una serie di istituzioni, dalle istituzioni politiche a quelle giuridiche a quelle religiose. È ovvia la profonda influenza che queste sovrastrutture hanno nel dare forma ai nostri giudizi e alle nostre opinioni. Fra tutte le istituzioni sociali da cui siamo diretti e condizionati fin dalla nascita, non sembra esserci alcun sistema dato per scontato e così poco compreso come quello monetario. Anche in periodi di profonda crisi economica, quando sarebbe legittimo dubitare della loro funzionalità, le istituzioni monetarie continuano ad esistere come una sorta di dogma. Un dogma fra i più forti mai esistiti. Ma in un mondo in cui l'1% della popolazione possiede il 40% della ricchezza planetaria, in un mondo in cui 34.000 bambini muoiono ogni giorno per povertà e prevenibili malattie, dove il 50% della popolazione mondiale vive con meno di 2 euro al giorno, e dove la restante classe media assiste quotidianamente al proprio impoverimento, una cosa è chiara. C'è qualcosa di profondamente sbagliato. Il denaro è il sangue che dà vita a tutte le nostre istituzioni. Ma domande quali? Chi crea il denaro? In base a cosa lo crea? Cos'è il debito pubblico? Chi è il creditore di questo debito? hanno risposte trascurate dalla maggior parte della popolazione. Sfortunatamente, infatti, l'economia e i suoi processi tecnici appaiono caotici e noiosi, e lo scorrere di notizie in gergo economico, insieme ad incomprensibili grafici, sigle e percentuali, sono un ottimo deterrente al suo studio. La realtà è che la complessità associata con il sistema finanziario è soltanto una maschera, progettata per nascondere uno dei meccanismi socialmente più paralizzanti che l'umanità abbia mai introdotto. Il denaro, sotto forma di moneta metallica, nacque per semplificare gli scambi di beni sostituendosi lentamente alla pratica del baratto, ossia allo scambio diretto di merci. Queste monete metalliche, coniate dal re o l'imperatore di turno, erano per la maggior parte prodotte in oro o argento, quindi avendo un valore fisico, ben si prestavano allo scopo di favorire gli scambi e semplificare i commerci. Ecco la nascita delle prime banche private, custodi dell'oro e degli altri oggetti preziosi del cliente. Esse rilasciavano in cambio del deposito una ricevuta, la nota di banco, che certificava l'esistenza del deposito stesso. Per alcuni anni, questo rimase il meccanismo di creazione del denaro. Ad ogni banconota corrispondeva un valore equivalente in oro depositato in qualche banca. Prendiamo ad esempio la banconota più famosa tra tutte, il dollaro. Fino al 1933, su una qualsiasi banconota da un dollaro, si poteva leggere convertibile in oro. È importante sottolineare che con poche eccezioni tra le economie occidentali, le banche mantengono ancora oggi la loro natura, il controllo da parte di privati. La Fed o Federal Reserve è la banca centrale americana ed è privata sia nella forma che nella sostanza. Cosa dire della nostra Banca d'Italia? La Banca d'Italia è parte del sistema europeo di banche centrali e possiede una quota del 14% della Banca Centrale Europea. Agendo per conto della stessa, la possiamo identificare come una vera e propria filiale della BCE. Nel sito ufficiale, essa si descrive istituto di diritto pubblico. Ma attenzione, pubblico non significa statale. Pubblico significa che le partecipazioni delle quote della banca sono aperte al pubblico. Chi ha in mano queste quote? La risposta è tra i dati forniti dalla banca stessa. Leggiamo che, tolte le quote appartenenti all'Inps e all'Inail, il restante 94,6% è in mano ad altre S.P.A. private. Prime fra tutte, Intesa San Paolo S.P.A., Unicredit S.P.A., Assicurazioni Generali S.P.A. Leggendo gli articoli riportati sullo statuto, troviamo che gli stessi proprietari eleggono un consiglio superiore, il quale addirittura indica al Consiglio dei Ministri chi si è gradito come governatore della banca, ottenendo così proprietà in quote, amministrazione e controllo della banca stessa. Ma la Banca d'Italia non risponde delle sue azioni al Parlamento. Da questo decreto del 2006 leggiamo che l'attuale obbligo si limita nel trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Abbiamo messo sul tavolo solo il primo pezzo del puzzle e già il quadro generale si prospetta preoccupante. Le istituzioni che in Italia, come in America, come nella maggior parte delle economie occidentali, sono preposte alla stampa ed emissione di denaro, non sono statali come sarebbe logico fossero. Sono istituzioni controllate da privati. Torniamo all'esame del dollaro americano e vediamo cosa sia effettivamente successo nel 1933. L'America vive da più di tre anni un momento di forte depressione e collasso economico. Per la Fed, il momento propizio per solidificare il suo potere, acquisendo le banche rivali a prezzi stracciati, intere corporazioni pagandole una piccola frazione del loro valore reale. E infine, con la scusa di porre fine alla depressione grazie all'ordine esecutivo del 1 maggio 1933, la Fed rastrella tutto l'oro disponibile nel sistema, rapinando di fatto la gente di quel poco di ricchezza rimasta. La pena per chi non consegna il suo oro alla Fed è la reclusione per dieci anni. Ora che la Fed è in pratica l'unica istituzione a possedere oro, le regole sulla stampa delle banconote sono a sua completa discrezione. Ecco infatti sparire la dicitura convertibile in oro ed apparire moneta corso legale. Ossia questa banconota non rappresenta più l'oro che ne ha giustificato il valore. Questa moneta è un valore. Una volta la banca stampava dei soldi ma aveva una riserva di oro e in base all'oro stampava dei soldi. E' successo questo. Perché abbiamo l'economia in dollari? Perché dopo la guerra gli americani attraverso la Fed e la loro banca hanno stampato, senza avere la copertura in oro, 90 miliardi di dollari dell'epoca e hanno impestato di fogli di carta senza copertura. Poi nel 71 Nixon che è uscito ha detto, signori non c'è copertura di oro perché l'oro è questo qui, ce l'avete. O siete indebitati di carta o siete indebitati o ci credete che questo è l'oro. Tutti avevano un dollaro e hanno accettato che un pezzo di carta diventasse e non c'è un pezzo di carta. Sarà lecito dunque chiedersi se non più in base all'oro, in base a cosa vengono stampate oggi le banconote? Troviamo la risposta in un documento ufficiale della Fed intitolato Modern Money Mechanics, ossia meccaniche della moneta moderna. Questa pubblicazione rappresenta nel dettaglio le procedure istituzionali per la creazione della moneta utilizzate dalla Federal Reserve e dalla rete di banche commerciali mondiali che sostiene. A pagina 1 leggiamo. Lo scopo di questa pubblicazione è di descrivere le basi del processo di creazione della moneta in un sistema bancario a riserva frazionaria. Poi, facendo uso di terminologia bancaria, procede nella descrizione di questo processo. Per noi in Italia il meccanismo non è differente ed è materia di studio universitaria. Tale descrizione e la sua applicazione nella creazione del denaro sono disponibili in un qualsiasi testo in materia. E la sintesi può essere spiegata così. Il governo italiano decide di aver bisogno di moneta. Non potendo creare direttamente le banconote, stampa dei pezzi di carta detti titoli del debito pubblico. Per un valore, ad esempio, di 10 miliardi di euro. La Banca d'Italia, per mezzo di intermediari che lei sola può autorizzare a partecipare alle aste di vendita, acquista di fatto il debito emesso dallo Stato. In che modo? Stampa anch'essa un mucchio di carte, chiamate banconote. Anche queste di un valore attribuito pari a 10 miliardi di euro. Redistribuite nei conti correnti dei partecipanti all'asta, le banconote di carta aggiungono ora 10 miliardi di euro alla base monetaria. Per avere conferma che sia la Banca d'Italia a gestire i titoli del debito pubblico, non ci resta che tornare sul sito ufficiale e leggere che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia ha la responsabilità dell'organizzazione e conduzione delle attività di collocamento e riacquisto dei titoli di Stato e di servizio finanziario del debito. Quello che è avvenuto in realtà è un vero e proprio scambio fra uno Stato ed una banca gestita da privati. I titoli del debito pubblico sono stati scambiati con nuovo denaro emesso dalla Banca d'Italia per conto della BCE. Per quanto assurdo, se questo processo non avesse luogo, nessuna nuova moneta verrebbe creata. Eccoli, 10 miliardi nuovi di zecca sono stati creati. Naturalmente questa transazione oggi avviene elettronicamente, senza carta. Infatti si stima che solo il 10% della base monetaria in Italia si è costituito di moneta fisica. Il restante 90% esiste solo negli archivi informatici. I titoli del tesoro sono per loro natura strumenti di debito, come le cambiali. Quindi la Banca d'Italia in realtà presta denaro allo Stato, utilizzando come garanzia solo la promessa del governo di restituire quel denaro. Ossia quel denaro è stato creato dal nulla, attraverso l'indebitamento del governo che promette di restituirlo. Chiaramente il governo è solo portavoce. Questo debito ricade sullo Stato, sul popolo, e si chiama debito pubblico. Da oggi in poi, quantomeno, sappiamo cos'è e sappiamo chi è il creditore originale e poi gestore di questo debito. La Banca d'Italia, una banca gestita da privati. Questo paradosso che stupisce sul come il denaro possa essere creato attraverso l'indebitamento di verrà più chiaro, proseguendo con questo esempio. Lo scambio è avvenuto, ed ora 10 miliardi di euro sono depositati sul conto di una banca commerciale. Qui le cose diventano molto interessanti. Basandosi sulla regola della riserva frazionaria, quel deposito di 10 miliardi di euro istantaneamente diventa parte della riserva di quella banca, come per tutti gli altri tipi di depositi. E circa i requisiti di questa riserva, come detto nel Modern Money Mechanics, una banca deve mantenere le riserve richieste dalla legge pari ad una percentuale prefissata dei suoi depositi. Poi, viene quantificata affermando, sulla base delle norme attuali, i requisiti necessari della riserva per la maggior parte dei conti correnti è del 10%. Questo significa che con 10 miliardi di euro depositati, il 10%, cioè un miliardo, è preso come riserva obbligatoria, mentre i restanti 9 miliardi di euro è da considerarsi in eccesso, utilizzabili come base per concedere nuovi prestiti. Sarebbe logico dedurre che questi 9 miliardi, qualora venissero prestati, si sottraessero dal deposito esistente di 10 miliardi. Ma non è questo che avviene. Quello che accade, in realtà, è che quei 9 miliardi vengono semplicemente creati dal nulla, sulla base del precedente deposito di 10 miliardi. Questo è il modo con cui la base monetaria si espande. Come detto nel Modern Money Mechanics, ovviamente loro, le banche, non concedono prestiti utilizzando realmente il denaro che ricevono nel deposito. Se facessero questo, non verrebbe creata nuova moneta. Quello che fanno, quando concedono un prestito, è di accettare delle specie di cambiali, i contratti di mutuo, in cambio di concessione di credito. Come è avvenuto con i titoli di Stato, si accetta la promessa che quel denaro venga restituito. In altre parole, i 9 miliardi possono essere creati dal nulla, semplicemente perché esiste domanda per quel tipo di mutuo e che c'è un deposito di 10 miliardi di euro che soddisfa i requisiti obbligatori della riserva. Supponiamo che qualcuno entri in questa banca e prenda in prestito questi nuovi 9 miliardi a disposizione. Non appena costui prenderà quel denaro e lo depositerà nel proprio conto corrente, il processo si ripeterà. Quel deposito entrerà a far parte della riserva di quella banca. Il 10% verrà accantonato e a sua volta il 90% dei nuovi miliardi, cioè 8,1 miliardi, è ora disponibile per creare nuovo denaro per nuovi prestiti e naturalmente quegli 8,1 miliardi possono essere di nuovo prestati e ridepositati creando 7,2 miliardi, poi 6,5 miliardi, poi 5,9 miliardi e così via. Questo ciclo di creazione della moneta e dei depositi bancari può tecnicamente andare avanti all'infinito. Matematicamente si possono ottenere 90 miliardi di euro sulla base degli iniziali 10 miliardi. In altre parole, per ogni deposito che viene creato nel sistema bancario, una somma di denaro circa 9 volte superiore può essere creata dal nulla. Ora, dato che sappiamo come viene creata la moneta attraverso il sistema a riserva frazionaria, una domanda logica dovrebbe venirci in mente. Cosa dà vero valore a questa moneta? La risposta è il denaro che già esiste. La nuova moneta essenzialmente succhia valore alla base monetaria esistente. Ad ogni incremento di moneta complessiva in circolazione corrisponde un incremento della domanda di beni e servizi e per la legge della domanda si ottiene l'equilibrio. I prezzi aumentano riducendo il potere di acquisto di tutta la moneta complessivamente in circolazione. Questa viene generalmente chiamata inflazione. E l'inflazione è praticamente una tassa collettiva nascosta. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia vera è falsa. Non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito. Nelle banche non c'è più niente. Non ci sono neanche i vostri risparmi. Oggi i soldi nascono dal nulla creati dalle banche. Bip! Con un computer. Mille miliardi in Messico. In Messico banca rotta. Bip! Mille miliardi in Thailandia banca rotta. Corea banca rotta. In Indonesia si mangiano le rupee. Jugoslavia c'è un'inflazione come nel 30 in Germania che andavano a comprare le sigarette con la carriola. mi arrivano con la carriola. Può succedere domani mattina qui. Qui può succedere domani mattina. Risolvere il problema dell'inflazione non si può. L'espansione monetaria del sistema riserva frazionaria è intrinsecamente inflazionistica. Attraverso l'espansione della base monetaria senza che ci sia un proporzionale incremento di beni e servizi si riuscirà sempre a far diminuire il potere d'acquisto. Tralasciando i dati farsati forniti dall'Istat osserviamo che dal 1999 al 2007 il potere d'acquisto dell'euro si è dimezzato. Se non fosse sufficiente la vostra esperienza personale abbiamo realizzato un grafico prendendo in considerazione nove materie prime. L'euro ha perso il 50% del suo valore in 8 anni. I prezzi sono saliti con una media di quasi l'8% annua. Le banche la chiamano inflazione. Quasi fosse un evento naturale. Noi la vediamo per quello che è la programmatica svalutazione del nostro denaro da parte di banche che emettono ulteriore denaro in circolazione rendendoci di fatto più poveri. Sembrerebbe assurdo ed antieconomico ma tutto diventa logico considerando che quando una banca stampa moneta in realtà emette un debito del quale resta creditrice. Poiché l'unico modo per creare moneta è attraverso un prestito nel nostro sistema il denaro e il debito sono la stessa cosa. Il denaro è un debito. Sommando tutti i debiti pubblici e privati si giunge ad una conclusione sconvolgente. Se tutti nella nazione fossimo in grado di estinguere i nostri debiti governo compreso non rimarrebbe alcun euro in circolazione. Sinora abbiamo discusso del fatto che il denaro viene creato dal debito attraverso prestiti. Questi prestiti si basano sulle riserve bancarie e queste dipendono dai depositi e attraverso questo sistema della riserva frazionaria ciascun deposito può creare per nove volte il suo originale valore determinando una perdita del potere di acquisto della moneta esistente con conseguente aumento dei prezzi. E dato che tutta questa moneta viene creata attraverso il debito e circola in modo casuale attraverso il commercio gli individui vengono scollegati dal loro debito iniziale e si crea uno stato di squilibrio in cui la gente è costretta a competere per lavorare al fine di ottenere abbastanza denaro dalla base monetaria per coprire il costo della vita. A differenza di quanto può sembrare c'è ancora un elemento mancante in questa equazione ed è questo elemento che rivela la vera natura fraudolenta del sistema stesso l'applicazione di un interesse. Quando il governo prende in prestito denaro o una persona prende prestiti dalla banca il prestito va restituito insieme ad un interesse. In altre parole tutti gli euro in circolazione sono destinati a tornare nella banca che li ha prestati assieme all'interesse. Fate attenzione le banche creano denaro e lo prestano ma in nessun modo creano il denaro chiesto per pagare gli interessi. Visto in un quadro globale le banche hanno creato dal nulla un certo capitale capitale che altro non è che la totalità del denaro in circolazione lo hanno dato in prestito per poi attendere che quel capitale fosse restituito maggiorato dagli interessi. Ma allora dov'è il denaro che serve a coprire tutti gli interessi sul capitale? Da nessuna parte. Non esiste. Le implicazioni di tutto ciò sono sconvolgenti. L'ammontare del denaro che deve essere restituito alle banche eccederà sempre la quantità del denaro in circolazione. Questo è il motivo per cui l'inflazione è una costante in economia in quanto c'è sempre bisogno di nuovo denaro per consentire la copertura del deficit insito nel sistema causato dal bisogno di pagare gli interessi. Questo significa che matematicamente le insolvenze e i fallimenti fanno parte del sistema e ci saranno sempre elementi poveri della società che rimarranno con il cerino acceso in mano. Qualcuno per forza di cose deve rimanere a bocca asciutta. Con quale risultato? Le proprietà degli individui si trasferiscono alle banche in quanto se tu non sei in grado di pagare il tuo mutuo si prenderanno la tua casa. Questo fa ancora più indignare se ci si rende conto non solo che tali insolvenze sono inevitabili a causa della pratica della riserva frazionaria ma anche perché il totale di denaro che la banca ci chiede non è neanche mai stato stampato. In Italia il nome attribuito a questo fenomeno è signoraggio bancario. Purtroppo non siamo più a parlare di una teoria ma stiamo esponendo i fatti per quello che sono. Possibile che nessuno abbia mai tentato di risolvere o far luce su questo problema. Nel 1994 il professor Giacinto Auriti docente di diritto denunciò la Banca d'Italia Carlo Azzaglio Ciampi all'epoca governatore della stessa è in seguito Antonio Fazio successore di Ciampi nella medesima carica esponendo la pratica del signoraggio alla corte che non potendo negare la veridicità dei fatti ha potuto solo constatare che di reato non si trattasse semplicemente in quanto consuetudine. In altre parole truffa o no si può fare perché si è sempre fatto così come a dire che se commetti uno stupro commetti un reato se gli stupri sono mille esercita una consuetudine. e tutto va bene. Allora questo professore Auriti cosa diceva? Andava dalla banca adesso la banca centrale e dice ogni volta che la banca centrale emette stampa dei soldi non avendo una copertura stampa della carta e dice un principio di giurisprudenza straordinario chi è? Di chi è? Di chi sono i soldi? Se è un pezzo di carta che non ha nessuna copertura in loro c'è scritto 500 euro ma di valore entristico non ne ha il prezzo della stampa è il prezzo della carta chi dà un valore di 500 euro siamo io e te che accettiamo i 500 euro la gente le persone che lo prendono determinano il valore dei soldi mi segui? ecco allora se i soldi sono i nostri perché la banca ce li presta? nessun monetarista ti dà una risposta perché non c'è risposta c'è un vuoto di giurisprudenza è l'incantesimo del monetarismo oggi le banche una volta era la banca centrale che dava moneta oggi stampa moneta con una banca normalissima quando ti dà una carta di credito un liberto degli assegni le banche dentro non c'è più niente nelle banche ma questo signoraggio che scopo ha? è facile dedurre che non siano i soldi ad interessare i signori di questa truffa planetaria parliamo comunque di persone che probabilmente non hanno il problema di arricchirsi dal momento che controllano il denaro sin dalla fabbricazione un debito per sua natura va saltato e che interesse avrebbero questi signori delle banche a ricevere indietro una montagna di carta senza valore e se non possiamo pagarlo cosa ci chiederanno in cambio? dare delle risposte sarebbe ipotizzare qui ci vogliamo limitare solo ai fatti ma c'è una considerazione logica che accompagna i fatti il signoraggio bancario praticato dalla stragrande maggioranza delle banche del mondo è in realtà un sistema moderno di schiavitù pensateci cosa fanno le persone quando sono indebitate presentano una domanda di lavoro per poter saldare il loro debito ma se il denaro può essere creato solo attraverso prestiti come può la società essere libera del debito? non può è questo il punto è la paura di perdere il proprio patrimonio che accompagna la lotta per tenere il passo che il debito e l'inflazione ci impongono essendo cardini del sistema tutto questo combinato con l'inevitabile carenza della stessa offerta di moneta per causa di interessi che non potranno mai essere ripagati ci rende schiavi legati al salario in linea come se corressimo su una ruota per criceti con milioni di altri individui di fatto potenziando un impero di cui beneficia soltanto un'elite situata in cima alla piramide e quindi a fine giornata per chi stai lavorando veramente per le banche il denaro viene creato dalle banche e lì deve finire loro sono i veri padroni insieme alle multinazionali che le sostengono e ai governi che lo permettono nella vecchia schiavitù era obbligatorio che le persone avessero una casa e del cibo questo signoraggio bancario invece obbliga le persone a sfamarsi ed aiutarsi da sole è una delle truffe più ingegnose per la manipolazione sociale che siano mai state create in ultima analisi il signoraggio è una guerra invisibile contro il popolo esserne a conoscenza è solo il primo passo sulla rete potrete trovare migliaia di persone che discutono il problema del signoraggio e le sue possibili soluzioni ma facciamo attenzione a chi specula su questo fenomeno usiamo la nostra testa cerchiamo di fare attente valutazioni ed uno studio serio senza salire sul primo carro che passa a tutti noi buona fortuna stampano soldi dal nulla e ce li prestano lo Stato dovrebbe stampare i soldi i soldi ci servono per lavorare lo Stato dovrebbe dire ce ne sono pochi ne stampo un po' ce ne sono molti ne prendo un po' e ne brucio un po' mantengo la circolazione stabile i prezzi stabili i soldi servono per tenere i prezzi stabili e per farci lavorare sono pezzi di carta però li stampa un SPA però li stampa un SPA 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 Grazie a tutti.